Ciao a tutti, allora questo video lo voglio dedicare a una youtuber molto gentile e fantastica praticamente è una youtuber che seguo tanto, vedo sempre i suoi video, non me ne perdo neanche uno ovviamente l'avete letto dal titolo e avete visto anche le immagini di copertina per cui voglio parlare ovviamente di Chiara Facchetti perché lei merita tanto specialmente io spero che arriva a un milione di iscritti perché davvero merita tanto è una persona molto generosa, fantastica e vorrei dedicare questo video proprio a lei allora prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico lasciarvi un like se vi piace questa tipologia di video dato che è dedicato a lei questo video, in più volevo anche ricordarvi di seguirmi su Instagram se volete lascio giù il mio Instagram e anche qua detto questo iniziamo questo video allora vorrei ringraziare Chiara perché due settimane fa o tre praticamente mi ha sponsorizzato sul suo canale ha fatto un video dove parla del mio canale, dove fa vedere il mio canale ovviamente vi lascio qui l'immagine della copertina che ha fatto lei del suo video e ovviamente vi lascio giù anche il link del video per cui vi lascio giù il link dove lei mi ha sponsorizzato nel suo video andatelo a vedere perché parla bene di me e poi diciamo che grazie a lei sto aumentando di iscritti infatti siamo a 1730 iscritti per cui grazie a lei i miei iscritti stanno aumentando e ovviamente vorrei tanto ringraziarla perché se non fosse stato per lei che mi ha sponsorizzato nel suo video e ha fatto vedere il mio canale sul suo video sul suo canale diciamo che a quest'ora non sarei neanche a 1730 iscritti per cui vorrei ringraziare sia a lei che a voi che vi siete iscritti al mio canale per me è importante perché è da tanto che sono su youtube e non ho ancora diciamo superato una grande cifra di iscritti dato che dovrei diciamo superare una cifra un po' alta rispetto agli altri dato che sono tanto su youtube e sto facendo davvero tanto mi sto impegnando davvero tanto poi sono sempre emozionata e agitata quando faccio i video e sbaglio sempre qualcosa diciamo e niente comunque davvero andate a vedere il video che ha sponsorizzato lei sul suo canale che ve lo lascio qui sotto mi raccomando perché ci tengo veramente tanto anche che guardate il video che ha fatto lei ovviamente su di me e in più volevo dirvi che ho comprato il suo libro perché mi è arrivato il suo libro il 2 marzo questo video voi lo vedete venerdì alle 2 del pomeriggio ho cambiato orario solo per questo motivo per il fatto che non riesco a pubblicare questo video giovedì che ovviamente oggi per voi cioè per me oggi però questo video voi lo vedete domani che è venerdì dato che non vorrei pubblicare il video alle 8 di sera perché questo video è molto importante per me allora preferirei pubblicarlo alle 2 del pomeriggio e infatti voi vedete questo video il venerdì anche se io pubblico di giovedì comunque detto questo ho comprato il libro che ha fatto lei praticamente adesso vi faccio vedere il libro l'ho prenotato il 15 di febbraio se non mi sbaglio se non mi sbaglio ma credo che mi sbaglio il libro l'ho pagato adesso vediamo se ho qua perché ho il foglio però mi sembra che non c'è scritto allora vabbè l'ho preso da Mondadori store online perché era da prenotare c'era sia su Amazon che su Mondadori io l'ho preso da Mondadori online a febbraio e dopo due settimane mi è arrivato perché il libro è uscito il 2 marzo per cui questo è il libro volevo farvelo vedere perché sono felice che lei ha fatto una cosa davvero diciamo bella perché non è facile scrivere un libro e tantomeno farlo e allora se non mi sbaglio era in promozione no è in promozione sul sito io l'ho pagato 15 euro e 10 centesimi se non mi sbaglio però costava 15 euro e 90 per cui era in promozione non so se è ancora in promozione io vi consiglio di prenderlo perché ho già letto qualcosina ed è bellissimo cioè non lo so sono cento adesso vediamo sono centocinquantasei pagine no 57 pagine sono io ovviamente lo leggo in un giorno perché sono pochissime pagine per me però meglio poche che troppe e praticamente cioè sia come è fatto è bellissimo e sinceramente l'ho voluto prendere perché non dovevo lasciarlo lì e tantomeno merita di essere preso di essere letto perché lei parla praticamente della sua vita in poche parole e ho notato adesso che ci sono anche i disegnini che belli no vabbè come dice lei che carini e vi spoiler solo queste cose qua perché poi io non l'ho guardato tutto però ci sono anche qualche disegnini o qualche scritta proprio tipo questo che bello non so se si vede comunque lo voglio leggere tutto vi dirò poi cosa ne penso e niente sono emozionata sono un po' agitata per per questo video ovviamente ma sono veramente felice che lei ha fatto questo libro perché così almeno si fa conoscere meglio e ripeto una persona fantastica se ovviamente seguite Chiara fatemi sapere se anche voi avete acquistato il libro fatemi sapere se fatemi sapere se siete iscritti al suo canale e se non lo siete ancora iscrittevi al suo canale mi raccomando perché è bravissima e fa dei video molto molto sia utili che belli infatti infatti non perdo neanche un solo video quando pubblica lei e niente adesso leggerò il libro è stato impacchettato bene perché è arrivato in questa scatola fatta così con cui era impacchettato bene poi c'è il il foglio che non c'è scritto il prezzo e non capisco perché c'è scritto solo il titolo e poi vabbè credo che poi se il libro è danneggiato oppure è rotto lo puoi rimandare indietro loro te lo cambiano in poche parole è la prima volta che sinceramente compro da Mondadori online di solito io compro nel negozio ufficiale però dato che lo volevo assolutamente volevo prenotarlo l'ho prenotato subito e mi è arrivato doveva arrivarmi giovedì 4 cioè oggi ma invece mi è arrivato in poche parole martedì martedì mi è arrivato sì ok sto già andando un po' in palla comunque niente detto questo io ci tengo moltissimo che voi andate a vedere il suo canale iscrivetevi perché vi aiuta molto specialmente lei da tanto su youtube e grazie a lei ho imparato molte cose per cui ve la consiglio andate a vederla sia sul canale che se volete comprate anche il suo libro niente detto questo spero che ho detto tutto fatemi sapere se ovviamente avete acquistato il libro anche voi se seguite non so quante volte forse lo sto ripetendo se seguite lei fatemelo sapere sotto in questo commento davvero sono un po' troppo agitata e emozionata per fare questo video perché ovviamente non so se lei poi guarderà il mio video ma comunque davvero volevo ringraziare per quello che ha fatto per me ovviamente di questo video che ha fatto dove mostrava il mio canale e mi raccomando andate a vedere il video ve lo lascio giù per cui andate a vedere il video io adesso non mi ricordo che minuto diciamo sono del video comunque fa niente voi guardatelo tutto il video perché se volete poi seguire altri canali che lei ha menzionato andatelo a vedere perché è bellissimo e niente tutto qua comunque detto questo non so quante volte ho ripetuto 50.000 volte le stesse cose spero che questo video vi sia piaciuto è un po' diverso dal solito io vi aspetto martedì prossimo perché ovviamente il sabato è un posto sospeso inizierò dal 20 marzo a fare diciamo altri video per il sabato per cui per il momento il sabato è sospeso pubblico solo il martedì e il giovedì per cui noi ci vediamo il martedì prossimo alle 2 su questo canale e niente mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un like noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao